Partita dall'ampedusa il 22 novembre, la carovana dei migranti ha concluso il 5 dicembre il suo viaggio a Torino con un convegno all'università e una festa al Cermig. La carovana ha percorso 2000 chilometri, compiendo simbolicamente l'itinerario di migliaia di immigrati che ogni anno sbarcano sulle coste per poi risalire l'Italia alla ricerca di una vita migliore.